Il mondo delle donne, l'evoluzione nei tempi della figura femminile nel contesto sociale, ma anche le violenze subite e le conquiste ottenute. Un'ampia analisi su quella che è la realtà del mondo femminile di oggi, come di ieri, è stato un argomento approfondito presso l'Istituto Professionale per i Servizi Sociosanitari di Polla. Una mattinata di approfondimento di una tematica di interesse per gli studenti e le studentesse che seguono i percorsi di studio proposti dall'Istituto di istruzione superiore diretto dalla preside Sabrina Rega e che, al conseguimento del diploma, potrebbero scegliere di mettere la professionalità acquisita al servizio del sociale. Nella mattinata di ieri, presso l'Auditorium Rocco Giuliano dell'Istituto Comprensivo di Polla, gli studenti che frequentano le classi terza, quarta e quinta dell'Istituto per i Servizi Sociosanitari hanno partecipato all'incontro nel corso del quale è stato possibile aprire un confronto proprio sui cambiamenti avvenuti nel corso della storia, in special modo nell'ambito dei diritti acquisiti dalle donne. Un tema che è stato trattato grazie anche alla presenza della responsabile del Centro Antiviolenza Retusa, Katia Pafundi, e con le relazioni della storica Alessia D'Innocenzo e dell'Avvocata Maria Garofano, che hanno saputo appassionare gli studenti. Inoltre, dopo gli interventi, si è aperto un ampio dibattito ricco di spunti e di riflessioni su conquiste, stereotipi e obiettivi ancora da raggiungere per una società che riconosca e rispetti in ogni campo la dignità e il valore della donna. L'incontro è stato promosso nell'ambito delle iniziative organizzate per i percorsi, per le competenze trasversali e per l'orientamento, che sarà ampliato con un laboratorio creativo di ricerca e scrittura di storie delle conquiste femminili, che coinvolgerà le tre classi partecipanti all'incontro.